E uno dei problemi grandi che noi vediamo è proprio quella mancanza della possibilità di tutti quanti di accedere a un minimo di benessere. Ed è il motivo per cui un frate francescano si occupa di minimo di benessere che c'è. C'è bisogno cioè che ogni uno di noi abbia la possibilità di poter mantenere la propria famiglia, di poter dare istruzione ai propri figli, di poter vivere una tranquillità di mondo. E come si fa a fare questo? Ci hanno provato i frati del 1400, i quali hanno inventato la partita doppia e hanno fatto la prima banca, che non era come le banche di adesso, erano banche a prestito che cercavano di aiutare la gente che si trovava in grande difficoltà. E poi piano piano la riflessione sull'economia è venuta avanti. Come è venuta avanti? cercando di capire per esempio la moneta che cosa è. Adesso io con i soldi posso comprarmi una persona. C'è chi si compra una donna. E questa è una cosa che non può accadere. I soldi non servono per comprare la gente. I soldi servono per fare il cambio. C'è una realtà che accadeva una volta quando c'erano le transumanze delle pecore dalla regione Abruzzo alla regione Puglia. Ogni tanto si fermavano ogni 20 km. Che cosa accadeva? Che i pastori davano il latte, davano le pelle e cose del genere. E la gente dei paesi vicini andava per dare loro qualche altra cosa come il restauro di un carro o messiario per le persone. C'era un cambio. La moneta che serviva per dare un cambio. Un qualche cosa che non vuol dire io ti compro. Vuol dire soltanto ecco io posso darti questo, tu mi dai quest'altro.